Gubbio e Gualdo Tadino scelgono il sì. Non si allinano alla vittoria nazionale del fronte del no, ma sostengono posizioni più governative, più Gubbio che Gualdo Tadino per la verità. A Gubbio il sì vince convinto con il 53-29%, 10.086 schede contro le 8.839 del no. Vota il 74-63% del corpo elettorale superando persino la media regionale, indice che l'argomento referendum è sentito. Gubbio conferma un'anima di sinistra non rivoluzionaria, moderata e nella fattispecie filorenziana. A Gualdo Tadino gli elettori sono più perplessi e il sì sfida fino all'ultimo voto il fronte opposto. Alla fine vince, ma di poco 50 e 50%, solo 84 schede di scarto decidono per la vittoria dei renziani. Sulla linea del sì si assesta anche sigillo, comune guidato da una lista civica di centrodestra, comune tra i più colpiti dallo scandalo del decreto salvabanche, ma che tuttavia sceglie posizioni filogovernative con il 51,96%. Guida il fronte del no nel territorio appenninico il comune di Nocera Umbra, con un netto 57-88%, uno dei dati più alti del no a livello regionale, indice di un vento di protesta forse non immune dalla crisi lavorativa che in Nocera ha la bandiera nella vicenda del fallimento Merloni. Seguono sulla linea del no Costacciaro al 53,16%, Fossato di Vico 50,72% e Scheggia con il 50,19%, solo tre schede di scarto con il sì. In un referendum che di fatto è stato interpretato come un voto di fiducia o meno al governo Renzi, l'Alto Chiascio promuove l'operato del Premier, almeno nei suoi due comuni di riferimento, Guppi e Gualdotadino, seppur questi in modo più timido, mentre mostra una sfiducia più corposa lungo il resto della fascia appenninica, dove la crisi si fa più marcata e le prospettive per il futuro latitano come la speranza di un lavoro.